40 esuberi all'ex ACC di Mel e l'attivazione dei contratti di solidarietà. Torna a preoccupare la situazione dello stabilimento zumelese del marchio Sest Luve. Qualche giorno fa i sindacati di categoria LRSU hanno firmato con la proprietà l'accordo per l'avvio dei contratti di solidarietà difensivi per scongiurare il licenziamento di 40 sui 70 dipendenti totali del sito produttivo. La domanda per il suo utilizzo è stata inoltrata al Ministero competente. Alla base della decisione, scrive l'azienda in una nota, il momento complesso legato all'andamento del mercato delle pompe di calore anche a seguito del cambiamento del quadro normativo europeo. Pur dovendoci adeguare a minori volumi produttivi, scrive Luve Sest, abbiamo comunque deciso di non procedere a interventi di riduzione di personale ma di ricorrere al contratto di solidarietà. Le preoccupazioni sono molto forti. Da un lato c'è soddisfazione per aver evitato i licenziamenti perché esuberi vuol dire licenziamenti possibili. Ricordiamo però dal nostro punto di vista, dal punto di vista della FIOM, che c'è una situazione particolare in quello stabilimento che è stato rilevato da Sest dopo la crisi di ACC. È un stabilimento che conta 45.000 metri quadri disponibili, ad oggi sostanzialmente inutilizzati. Ricordiamo che il gruppo Luve ha appena presentato la semestrale in cui dichiara l'entità record e quindi di avere ottenuto dei risultati importanti. Il gruppo è un gruppo che sta bene, sano, che produce ricchezza e quindi oltre a mettere a riparo i lavoratori con il contratto di solidarietà serve e è necessario che il gruppo Luve si impegni in nuovi investimenti su quello stabilimento per garantire poi anche produzioni magari diverse in altri settori. I contratti che potranno interessare tutti i dipendenti partiranno a metà ottobre, non appena si concluderà la cassa integrazione ordinaria che da oltre un anno interessa i lavoratori dello stabilimento. La solidarietà durerà fino alla fine di dicembre di quest'anno, poi dal 1 gennaio, quando Sest sarà inglobata in Luve, sarà quest'ultima a chiedere il proseguimento della solidarietà per altri 22 mesi.